Lo scorso 21 dicembre i carabinieri di Chioggia hanno fermato tre vongolari a Porto Peschereccio di Scardovari, nel comune di Porto Tolle, appena rientrate dalla pesca, sequestrando un totale di 1.500 kg di vongole, ciamele a gallina, prive di tracciabilità e rigettate in acqua in quanto ancora vive, in modo da ripristinarne il ciclo vitale. I tre vongolari sono stati sanzionati con 2.000 euro di multa ciascuno. Il consigliere regionale Andrea Zanoni del Partito Democratico, presidente della Commissione Consigliare Legalità, ha commentato l'operazione rivolgendo i carabinieri di Chioggia le proprie congratulazioni. Il loro costante lavoro contro la pesca illegale di molluschi, spesso in acque inquinate, è un servizio prezioso a tutela della salute, dell'ambiente e dei pescatori che rispettano le regole. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Grazie a tutti.